Millequattro? Allora manca poco? Ma si vede che siamo vicino a nuvoli dove mi ha portato il mio amore buono del mondo. Che bellezza! Guarda come si vede tutto. Sembra che siamo in aereo. Ecco, vi faccio vedere. Madonna mia! Ma anche se mi firma un mio uomo, che mi frega, è sempre bello lui. Stiamo salendo ancora. Guardate, oh che bello che si vede adesso. Aspetta che apro la finestra. Così vedo bene. Eccoli qua. Tutto bello. E la velocità della macchina, eh? Che bellezza. Madonna mia! Mi sento proprio... Guardate qui è troppo. Bella, eh? Stiamo salendo ancora. Ecco qua. Poi quando mi fermo, mi sento... Oh, si vedono le case piccoline, piccoline. Come si chiama questa montagna? Non ti ricordi? C'ha un nome? C'è un nome? No. Eh? Monte Benino. Monte Benino. Benino. Monte Benino. Benino. Pi? Con la Pi? Picchio. Ma che sta a dire? Monte Benino. Monte Benino. Mi fa ridere. Anche se... Monte Benino. Con la Pi. Ecco qua. C'è ancora... Stiamo salendo. 1500 metri, eh? Vi rendete conto? Dove sono io? Sono inferiore. Mi amore mi porta in posti belli... Tutti belli, belli, belli. Sì. Sì. Che bellezza, guardate. Ecco, si vede tutto. Che roba. Cammini con 80 all'ora? No, 30. 30, certo, che 80. Ma sì. Manca poco, vero? Ecco, adesso ci stiamo salendo. Ancora, siamo vicino a nuvoli. Quasi, quasi in cielo. Sì, stiamo cercando di su. Ecco, una cabana. Che è questa? Una... Come si chiama questa cabana? No, che è una casa? E perché non parlo? Dimmi, casa? Che è? Dai, amore, parla. E come si chiama? Da noi si dice cabana. Da voi? Ahahahah. Piccioncino mio fuori del mondo. Sei bello da morire. Tu non hai idea come sei bello. Veramente non hai idea. Sei bellissimo. Ma che roba. Non parla, sta muto. Mi fa segno. Ahahah. Poi c'è una voce, dai. Ecco, si chiama cabana. Ecco qua, guardate quello lì. Quella è in montagna, ultima. Dove si sta? Ah, è la cruce lì, quella lì. Sì? Mi dice un sì. 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 Ecco qua. Ecco qua. Siamo arrivati. Adesso basta che dobbiamo camminare a piedi. Fino in quello alto. Ecco, ciao. Vi lascio a dopo. Proviamo tanto a tutti che mi volete bene. Ciao, ciao. Ecco qua.